Pollica e Casalvelino insieme per rimettere in sicurezza la via del mare. La principale arteria di collegamento dallo scorso febbraio è interdetta alla circolazione. Un vasto movimento franoso ha reso il manto impercorribile in località Piani tra la frazione Pioppi di Pollica e Casalvelino. Fino ad oggi la provincia di Salerno, ente proprietario della 267, per mancanza di fondi non è potuta entrare in azione. Di qui la richiesta dei sindaci dei due comuni a farsi carico degli oneri per l'esecuzione dei lavori. Una prima istanza era stata bocciata, ma ora, finalmente, dopo una serie di azioni di protesta, da Palazzo Sant'Agostino è arrivato il via libera. Le due amministrazioni comunali potranno effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di opere per la canalizzazione delle acque piovane e di asfaltatura del tratto incriminato. Interventi tali da rendere la strada percorribile in vista della stagione estiva. I lavori di ripristino, condizioni meteorologiche permettendo, saranno ultimati nel giro di pochi giorni. La collaborazione delle istituzioni più vicine ai cittadini, hanno evidenziato unanimi due sindaci, Domenico Giordano e Stefano Pisani, rappresenta il modo più efficace per risolvere i problemi. Speriamo che altri amministratori seguano il nostro esempio, invece di piangersi addosso.